Ciao, oggi vi preparo una versa al latte. Qua ho mezza versa, cotta in pentola a pressione per 10 minuti. Andiamo a tagliarla a pezzetti. Aggiungiamola ad una padella. Con del pepe. Sale. Aggiungiamo inoltre del latte. A questo punto aggiungiamo una noce di burro. Diamo una mascarata. Sporchiamoci. E mettiamo il tutto sul fuoco a fiamma bassa finché tutto il latte non sarà evaporato. Mescoleremo periodicamente. Ci vorranno circa 10 minuti. Bene, il latte finalmente si è evaporato del tutto. Ora non resta che dare una generosa grattugiata di conmaggio. Io preferisco il grana, però potete usare quello che preferite voi. Diamo un'ultima mescolata e poi è pronto per servirlo. Buon abitito. Buon abitito. Grazie a tutti